Ma, 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 che posto è mai questo? Oh mio Dio, è un canyon, ci sono delle, delle fence? Beh, vado, vedo che ho degli attrezzi, vado in miniera e cerco del copper. Ma, carbone? E non c'è il copper? E la, 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 la tin, la tin, facciamo la tin, dai, oggi, allora, apriamo, e dov'è la ney? Allora, oh, l'avrò tolto. E, sì, non ho più mod, gente, dove, dove sono finite queste mod? Io non mi sto spaventando, sta succedendo qualcosa? Ok, let's go. Ok, infatti, ciao a tutti ragazzi, io sono Merdecraft e ci siamo qui, nella Easycraft, stagione 1. Questo è il nostro server multiplayer vanilla di tutta la nostra comunità. Infatti, fornatteremo in TS con chi c'è, ma siamo, tipo, tantissime persone. In ogni episodio ci sarà gente diversa da conoscere. In qualche episodio sarò da solo, vedete che ho verlaxo, se è FK. In qualche episodio sarò da solo, perché io, tutti sono in gruppo, io sono da solo, perché erano finiti i gruppi e perché io preferisco farle da solo le cose, perché così richiamo meglio, richiamo quando ci pare, eccetera. Comunque, io ho già cominciato da un bel po', sono due giorni che gioco su questo server senza recaria perché volevo avere qualcosa da mostrare. E questa, non questa montagna, ma quella torre lì e soprattutto questo ingresso qua è casetta mia! Guardatela qui, che simpatica. Il nostro merlo sbuco, vedete? Merlo sbuco. Qui c'è anche la nostra stradina, lì c'è la nostra serra, alla quale possiamo accedere dall'interno della casa. Ho fatto anche un po' di mining e probabilmente mi spanderò lungo tutta questa montagna. Mentre qui vicino si è sistemato l'axos, vedete che stavano togliendo le cose. Adesso io dovrei fare alcune torce, già che mi viene in mente, comunque vi faccio vedere anche la casa. Qui farò un'altra stanza. Questa è la stanza delle ceste, vedete che tipo qui adesso, no, qui c'è tutti i materiali. Ho fatto un po' di miniera, ho finito il carbone perché qua c'era tutto questo ferro, sì. E non ho trovato nessun diamante, lapislature e cose del genere, stranamente. Però sì, va bene. Allora, vediamo se riesco a trovare gli stick. Eccoli qui. Quindi facciamo un po' di torce perché un angolo della casa è in buio perché prima c'erano cose che poi non ho tolto. Una spiegazione molto di merda. E allora scendiamo dal buco, andiamo nella fonte di acqua infinita. E qui possiamo mettere delle torce e anche qui perché sennò è tipo tutto buio. Ok, comunque questa sarà la Easy Craft, una serie in vanilla. Oggi faremo un po' di cose, per esempio decorare questo tunnel. Il mining lo farò tutto a F-camera. Sì, non mostrandolo, insomma. E sì, magari faremo anche un po' di stradine e spanderemo un po' quello che comincerà a essere il nostro impero. Lì potete comunque vedere il centro cittadino di Isiopoli. E sì. Qui poi metterò degli scalini che due ho già nell'inventario. Dovrò mettere il terzo. E sì, credo che lì qualcuno stava facendo un mob spawner, anche se è sparito. Magari vi porto a fare un tour veloce del server lì. C'è un ponticello che porta la casa di spaccia. Questa è la casa di Genius Stone. Qua vedete le loro carote, agricoltura di carote, tutte le belle cose. E sì, appunto qui ci sarà casa di spaccia, anche se c'è già la casa di spaccia, ma non ve la farò vedere perché è troppo lontana. E poi, sì, invece di là, di là dal nostro ponticello che cane, hanno fatto la farm di neve, è grandissimo. Dopo, anzi, direi di subito che ne prendo un poca, perché è sempre una buona cosa da avere. Ma sì, direi che... Ops. Ops. Ops, ops, ops. No, 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 vai dentro, vai dentro. L'ho ucciso. Va bene, lo fixerò più tardi. Dopo metterò un cartello. Comunque, sì, adesso tornerò in TS e ci sentiremo con tutti quanti. Comunque, sì, quella è casa di fasso e di zanno. Ok. No, raga. Aspetta, non ho capito bene. Sì, Angel, domani che mangià a casa lo spazio. Manu, allora, Manu. Eh, giuggia! Eh, giuggia! Aspetta, le scuole riapriranno quando? Quali li apriano? Quali li apriano? Riapriranno? Manu è morto. Perché se non andavo, se andavo lo stesso, non mi diceva niente, avevo teatro. È bellissimo il teatro. Comunque, giusto per la cronaca, tutte le esultanti di Angel, le ho riccate. Grande. Buola mia. Non so se io qualcuno ha zucche che ricostruisco la farm. Ah. Eh, io a casa. Mirate una zucche. Io ho le zucche. Ma perché, forse, c'è un po' storico. Ma fa, so, vieni su di essere, Mona. Eh, ok. Eh, sì, appunto, mi servono zucche, Plitz. No, YouTube. Zanna, voi avete zucche? Sì. Io c'ho le zucche. Ah, beh, ma tu sei troppo lontano. No, ci ho fatto il ponte a fare. Ah, beh, approfitto, approfitto che faccio vedere la casa di... di spacciare. Ho fatto il ponte a guardare. Oh, vai a casa di Gino, se... Sì, no, lo rispondono. Che cazzo. Ma che tipo, ma che tipo ho sentito Angel che urlava a sua mamma a domani non vado a scuola. Eh, Gesù. Ma che tipo ho sentito Angel che dice... Eh, ciuci. Eh, ciuci. S'hai sentito lui, ciuci. Manu, si è sentito tutto e l'ho anche recato e finirà su YouTube. Non mi fotte niente. Ciucia. Manu, adesso tu vieni qua ai miei bracci. Va bene? No, vattene a fanculo. Oh, dove cazzo stai, Merlo? Eh, sto venendo a tutta tua. Io sto vicino al ponte, sto venendo. Io sono a casa tua. No, però domani mi rimane a me portare un'analisi del sangue. Dov'è? Tipo questo posto. No, voglio una scuola, voglio andare. Eh, oh, Merlo. Ragazzi, voglio andare a scuola. Ah, questo è il tuo portale. Ho paura. Hai paura, hai paura. Questa comunque è casa di spaccia stile RPG per il mio YouTube. Non fa male. Thank you. No, Zeno, lo so che non fa male. Molto stile Skyrim. Cioè, mi dà fastidio che mi tolgono il sangue. Mi tolgo il sangue. No, vabbè, mi immagino a Angel che gli tolgono il sangue e tipo sviene. Gli vengono attacchi ebile. L'anno scorso non sono riusciti a togliermi il sangue perché ero troppo duro. Ero troppo duro, in che senso? Merlo, Merlo. In che senso? Ah, che cazzo fai? Mi fecchiano. Mi fecchiano. No. Angel che era l'infermiera. Ero so, però mi è venuto giro lo stesso. Alice. Secondo me una mamma mia costa Alice. Ma poi, guarda, io ho la peccato di neve. Poi, almeno sai che Alice... No, non lo so, però... E' Andrea qui, vieni qui, vieni qui. Cosa? Alice e Andrea. Io so, io so, io so tutto. Io ti ho detto, è over. Io non ci sei. Io, 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 sapato, do dormire da Alice, intendendo io, sapato do dormire da Andrea. Su che capisce? Co-cosa, cosa fai tu? Ma lo so dove sei tanto, eh. Ti troverò. E ti ucciderò. E ti piscio. Non faccio le mie cose tranquillamente. Ciao, Angel. Perché ti dispiace, azz? Merlo, perché ritorni indietro ai le hack, eh? Aiuto, cazzo. Ok. Mi manca clamorosamente. Devo aggiustare la farm di Genius, non per il cazzo. Aiuto! Hai un merlo selvatico che mi attacca! C'è su. Il pupazzo di neve si fa con uno o due cose di neve. Hai gotto, che cazzo. Ciuccia! Ciuccia! Ho trovato il modo di fare. Hai lo sentito il mio. Io scommetto che appena ho detto ciuccia la mia volta, mi sarebbe sentito la rida. Passo, Passo ha fatto che l'accendiro non si può usare, non riesco ad accendere il portale. Non ho capito cos'è che ha fatto. Passo ha fatto che l'accendiro non si può usare nel server e non riesco ad accendere il portale del nether. Che testa di cazzo. E Passo allora come l'ha acceso. Non lo so. L'avrà fatto prima di dimettere. Ecco appunto, ecco Passo. Se le ghi... Lo sapevamo tutti che se lo sapevi, Ghiibbao, eh. Si chiudono la cosa. E andiamo all'anna, gente. Aspetta, un attimo, lo su da fatto. Ah, un passo c'è? Andate all'anna, gente. Sottato lo scheletro e con la spada ucciso il ragno. Questa sono le cronache di Skyrim Spaccia che vi... Ho fatto una cosa bellissima. Cioè, come racconti sempre, che puoi evitare, era più. Vai, dormiamo. Era una mezza cagata, però raccontava un figo. Comunque lo dico per YouTube qui perché... Ah, perché c'è YouTube. Sì, sto ricando, buongiorno. Vi stiamo registrando. Ecco, bravi. Un applauso. Ok. Buongiorno. Eh, sì. Obiettivi di oggi sono fare un po' di ritorazioni a questo tunnel perché non è tunneloso. Scusa, merlo. Quindi noi stiamo registrando tutto appassionatamente insieme. Io sì. Poi farò tagli. Io taglierò. Non dobbiamo buttare. Giuramontagna, over. Perché ricordiamo che merra, la differenza di fasso, edita i video. Attenzione. No, non li prende e li carica così come arrivano. Come fasso. No, vabbè, è inutile perché provando a caricarli dopo che ha caricato con Fraps o con Action. Io non ho caricato con Fraps o con Action. Zucchia. No, anzi perché dopo se lui li edita pesano anche di meno. Appunto. Eh. No, in verità se li renderizza pesano di meno. La stessa cosa. Eh, tu alla fine, tu cosa fai alla fine di un video? Zitto, zitto. Eh. Lo lascia lì così. Lo metti super il culo? Lo renderizzi? Eh. Scusami. No, lo metto super il culo. Lo lascia lì così alla cazzo. Eh. Noi sei zanna che c'è questa mania adesso di mettere cosa? I video super il culo. Cosa? Eh, no, lo metto tranquilla. I video super il culo? Non hai. Deletano. Deletano. Oddio, pure l'isola sagra è piena d'acqua, ragazzi. Così alla cazzo. Sì? Vedere chi sta la scarica. Obiettivi di un'anzi, ma lo sai che ti dico? A posto di buttare giù questa montagna, buttiamo giù questa. Eh, infatti è quella che ci dà fastidio. Non buttatemi giù niente che ci sia vicino a casa mia, gente. Eh, mi dispiace. Eh, casa mia, sacchi e io. Abbiamo già buttato giù il corpo. Ah, io devo andare. Oh, non è che è una pala per me. Eh, no, mi si è fanno rotta. Vabbè, ti amo. Ma spero, vado da Merlo e gli fottò due di Cobblesson. Quanto ci sono? Sì, vai. Dove sei? Dove sei? Anzi, no, non ti devo fottere niente. Tieni, 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 tieni. No, non ti devo fottere niente. Non mi dare niente perché te lo metto nel culo in un modo allucinante. Cosa? Vabbè, mi serviva la fabbissola. No, 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 scusami un secondo, no? Ma aspettate, ma quindi Spencer non recca? Eh, adesso lo scopo. Ma Spencer è il frocio della situazione. No, non è giusto. Fai il negro del mondo. Perché tu per cosa... Ho troppo pesare di Minecraft, io. Non è giusto. Tu hai un pene nel culo, fai solo Minecraft. Non è vero. Overtieni. Adesso, no, vabbè, faccio anche Mirror Sage e Don't Serve. Quindi... Mi vedi quello che mi copia, Mirror, Mirror Sage. Cosa? Perché lo faccio io? No, perché lo vedo da Peppo. Peppo non l'ha mai fatto, Mirror Sage. Sì, no, l'ha fatto. Io vedo quella di Space. Peppo che mi copia anche. Ah, perché sì, eh. No, no, l'ha fatto prima di te. Tu l'hai copiato da lui e me l'hai anche detto. Oh, mi hai detto di te. Tipo per i designed tunnels. Anche se lo avevo che avesse fatto, Peppo Mirror Sage. Io Mirror Sage l'ho visto per la prima volta da... Da... Mickey Box. Da chi? Da Mickey Box. Ah, ok. Non so neanche chi. No, non ne avevo. Ehm... Ma Mickey Box non è l'ex canale di Peppo Geiger. Scusate. Ah, ah. Sì, più o meno. Pronto, lo ho scoperto dopo. Io l'ho conosciuto come Mickey Box, quello. Buongiorno. 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 Mi è venuta un'idea geniale. Ho due palle, Angel. Hai due palle, te lo date io. Te lo date io. Sperlo una cosa, no, ma sfruttare il proprio raccolto. Sfruttare il raccolto di Genius Stone, è uguale poi alla fine. Allora, mello, ti spieghiamo cosa sta facendo Spains. Guarda, Over, ce ne sono altre due palle, tu e qua. Altre due palle, tu e qua. Cosa fa? Dato che il grano cresce, lui è sempre online. Sì. Cosa fa? Quello di Grano, di Over, non di Over, di Genius Stone cresce, glielo fotte e glielo ripianta. Vabbè. Poi, quello di Fass e Zanna cresce, glielo fotte e glielo ripianta. Mi sa che l'ha fatto anche col mio perché io mi sono... Quello tu cresce, glielo fotte e te lo ripianta. L'hai fatto anche col mio, Sfaccia? Perché me lo sono trovato tutto cresciuto? No. Avevo piantato solo una pianticella. No, il tuo è quello che non ho mai toccato, sinceramente. No, perché io avevo tipo fatto solo una pianticella, intorno al server me le trovo tutte cresciute. Ah, no, quello là sono stato fatto. Ah, no, 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 una volta l'ho fatto, quindi. No, una volta l'ho fatto, mi ha passato a modi, sì. Una volta solo l'ho fatto, però poi ti ho messo la roba dentro una cesta. Ma sì, no, ma tanto, fotte te. No, no, è vero, ti ho messo della roba dentro la cesta. Poi però... Sì, è tanto. Eh, dopo me l'ho fatto perché ho detto... Cazzo il mio, che l'acqua! Mi dice di fare tantissimi attienetti a fare saltare questa montagna perché io non riesco a scavare. Eh, ma... Ok? Non riesco a scavare. Ci date della gaunt powder? Della gaunt powder? Raga, non è che non voglio... Non è che non voglio distruggere la montagna. Oh, cos'è? È stata l'eronia. Guarda che vinco io. Il mio figlio da Griffer dice... No, 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 ho preso un hack, se no non correvo. Falla saltare in aria con la montagna. Ti lo metti che vinco io. No, dai, basta, basta. Peace and love che sto riccando, please. Eh, dammi, dammi la gaunt powder che c'è dovevo faccire... Non ne ho, non ne ho la gaunt powder. Ma che è questa? Bravo, bravo, hai fatto bene. Stava prendendo la gaunt powder. Stava prendendo la gaunt powder? E il problema è che hanno distrutto casa. Ma porco Dio, eh. Eh, scusa, ma stavo riccando una volta. Tu sei stato ucciso da me. Oh, bitch, sei venuto col piccone. È stato ucciso da me. Venuto col piccone. Tu come sei? Tieni, ti ridò la roba, ti ridò la roba. Venuto col piccone. Ma lo fermo col piccone. Ma tutti qua. Ti ridò la roba e se ne compi le palle. Ti dammi la roba, sennò ti haro col piccone. Ti haro col furgone. Ti muove? Col furgone. Ti haro col furgone. Ti dammi lo stack di... Oh, avevo uno stack di torce di troia. Ma dai, non mi faccio scopare a dirti, figlio di troia. Sì, figlio di troia. Cosa ti manda? Ah, l'elmetto. L'elmetto è... L'elmetto è... Le stringhe. Il stringhe che lo date. Avevo le stringhe. Te lo date. Le stringhe non me la rai. Non me ho l'elimentario, c'ho questa scena il cazzo che non è mia. Ah, no, ecco l'elettro. La scena è la mia. La mia arte. E ora ti uccido con l'ascia di legno. Tu stai fermo. Non ti tolgo niente, non ti tolgo. Non ti tolgo niente. La fuga. La fuga di mezzo. Mi scappo. Ok, comunque, back at the designing. At the your motherfuckers bitches animals. 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 Oh, un ragno. L'ho preso con la palla di... Ma che c'è fatto in cui c'è il cazzo di Ingenius? Eh, spainz. Spainz cosa c'è la cazzo di Ingenius? Eh, in Ingenius. Oh, un cere rosso. Il culotto cere rosso. Codice verde, codice verde. C'è codice rosso, è nel lato. C'è codice rosso, è nel lato. E tu te, me, 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 te. E tutti i miei ascoltatori che fossero nel lato, c'è codice rosso nel lato. Da detto Angel. Ah, non è vero, è stato Huawei. È stato Huawei. C'è che Huawei vive nel lato, ma voi non lo sapete. Sì, voi non lo sapete, ma Huawei è europeo, però gioca negli US perché ha una condizione troppo po'. Ma Huawei di dov'è? È America. America a qualche parte. È, è, vive con la cioca, vive con la cioca lui, vive con la cioca. No, è con lo schifo sovieto. Angel, non hai capito quello che ho detto prima? Sì, però lui la fuma, la cioca. Perché tu non la fuma? No, io la uso a scopo medico, perché se no il Lazio mi arrestano. Dicono tutti così, Angel. Infatti io dico così, ma non so gli altri. E che cazzo? Così è la cazzo. Se tu non sarai bene, comunque. Merlo. Mi dica. No, no, io ora te lo faccio a scuola. Ma Jack, ma Jack perché è fissato con gli anonimus? Con me? Con gli anonimus? Ah, non lo so, chiedi a lui. Perché lui è un anonimus. Oh, Leo. Oh, Leo. Aspetta, ora. Vabbè, raga, comunque tra poco vado. No, 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 dove, dove, dove? Co, chi, co, come? Perché? Perché mio fratello si vuole mettere il computer. Ma te non veniva la scuola, quindi. No. Oh, sai che armo, figlio di una vuttana. Cosa? No, ho detto te voglio bene. Angel lo dice a tante persone che vuole bene. È un segno di affetto. A te no. Ah, zombie di lato. Sì, mi hai urlato nell'orecchio. Sì, un creeper ti ammazzavo. E avete Torce? Quelle che cominciano con Tori, finiscono con Chase. No, 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 Tor. Ah, Tor, DJK. Esatto. Guarda, quindi. Lo banno, io lo banni tu. Vero, ma dove è finito sto, 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 Tor, DJK? Che io mi ricordo che Tor, io ho esploso il cane. Tor è a giocare a CS, tu apri Steam e vedi, Tor DJK sta ora giocando a CS Global Offensive. PSGO. 12K sta ora. Eh, sì, me lo so. Eh, obertà dove vede fra un po' di venire, sentiamo un po' giusto a montagna. Appunto, una volta c'era pure Samuele che non so chi si è. Samuele, ma non c'era solo a Loll. È morto anche lui da, sì, esatto, lui era Loll. Lui era Loll in persona. Quando sui del genere, lui era Loll, a Torre a Coso, a CS, e a CS, e a FASC. Era una guerra. E ha vinto Minecraft. Utili Zun Creeper, aspetta. Ha vinto Minecraft. Eh, a me mi serviva un po' codincio, ma io dico, no, ma dove cazzo è esplodo sto? Appunto, che sto, dove è esplodere sto cazzo di Creeper? L'ho fatto esplodere sulla montagna. Me lo sono sentito nel culo, sai come? Anch'io. Eh, 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 e quindi bello per me. Cuseste, mi erano venuto un için di finale, sole per essere garantito da un po' più grande. Poi, qua sotto. Salutiamo i compagni, vi ho�� glamorous. Amm. over 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 perchè sei solo a meno l'ho vera a dire se la vedendo manna anche se ci è vero a scuola farmi spero che piove domani tornate voi scusa alla fine e non so per il penso di andare prase piove non ci fa se piove non ci fa non me ne fotte niente pur se tira una goccia devi si piovere io faccio non vada a scuola allora vai sul pozole sputti fatti gesù 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 perchè sei buono vado chi cazzo è vado anche al culo quelli tu ma allo merlo allora ho detto domani angelo 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 ducato 6 angelo il piccolo 1 bene gente e uriano bec siamo stati giunati dall'unico mitico e inestimabile over l'axe non siamo genitori all'area schermia e si mi serve un segno qualcuno ha un secchio vuoto anche la canada pesca anche la canada pesca qualcuno ha un secchio vuoto ma devo craftarmelo si ce l'ho io a casa non è vero non è vero non è vero il fame portale spaccia figliata no perchè non mi ricarica la mappa fai slash home se non ti spicchio no è un bug di cosa perciò no non è un bug basta guarda basta basta che fa slash home invece di arriventare nel portale si ma no ma io dico che ogni volta che qualcuno accende un portale risponderà in una delle parti infatti volevamo farci entrare il portale volevamo farle tutti perchè io mo tipo vado a prendere il coso l'obsidian e mi ritrovo quando rientro mi ritrovo a casa di spenso a casa tua no sempre a casa di fasso perchè a casa mia ormai è andata sono tanto a casa di fasso no no prima dipende pure dipende quindi possiamo buccare dentro casa di fasso quando non c'è no perchè io blocco l'entrata e tu non indi no puoi sardo di merda sei vauro c'è ma tanto c'è 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 per entrerlo stesso che non ti conti c'è sempre un modo fosso se si può sempre c'è sempre un modo vabbè vabbè a parte tipo quel circuito buongiorno pigman questa è oggi no no quel circuito si può un culo sai è semplice la cosa voi andate io metto come un blocco che vi chittano ok eh non puoi usarlo ma io ho recato dito sto cosa ho mutato mi scusate anche per l'altra infatti te l'ho detto che ti eri mutato stavo parlando ero mutato ma non ci credo ti ho detto guarda si è mutato ho fatto vabbè comunque si ho fatto la fontana hanno parlato loro voi avete sentito loro parlare per tutto il suo tempo Gesù ho tolto l'acqua perchè è un po' ritardo e ora me lo viene aiutare a buttare giù ehm ehm si perchè infatti ho finito l'episodio quindi se il video vi è piaciuto veicolo di lasciare mi piace a dislike per la nuova serie perchè siamo sull'Agecraft aria si appunto io ero un po' spesato senza trovarmi la tinker almeno però vabbè eh almeno quello siamo tutto posto facciamo come Spence che appena ha aperto la survival voleva la la mod la endertale la mod della della cosa della enderchest è vero la enderchest vanilla tipo la enderchest vanilla ha un solo colore ciao no non ha proprio colore è scandaloso vabbè comunque noi ci vediamo nel prossimo episodio e ciao ragazzi ciao 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 ciao